E' tutto pronto nei quattro padiglioni dell'Arezzo Fiere Congressi che domani tornano ad ospitare a Orezzo la manifestazione dedicata all'eccellenza italiana ed internazionale dell'oreficeria organizzata da IEG che quest'anno finalmente torna in presenza. L'edizione 2022, la 41esima, è infatti in programma dal 7 al 10 maggio. Oltre 300 i brand espositori tra cui realtà a retine ma anche presenze importanti dal distretto di Vicenza, da quello napoletano e dalla capitale meneghina con un'offerta che spazia dalla manifattura Orafal Tech con i sistemi di lavorazione più tecnologici. Circa 200 invece compratori stranieri provenienti da circa 50 paesi, confermati buyers dagli Stati Uniti e dai paesi del Sud America come Argentina, Messico e Cile, dal Canada così come quelli del sud-est asiatico, in particolare Indonesia, Malesia e Vietnam. A Orezzo sarà poi anche la vetrina delle creazioni in concorso alla 31esima edizione di Premier che proclamerà ai vincitori che meglio esprimono l'eccellenza del Made in Italy. Torna infine nel centro storico aretino anche la Gold Night, la notte d'oro dello shopping con musica, intrattenimento e quest'anto anche una grande causa comune attorno alla quale mobilitarsi, la raccolta fondi per l'emergenza ucraina.